Gentili Pubblico, Estoria 2012, ottavo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda Apich. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Estoria e si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocino del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comune di Gurizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gurizia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Italiana Editori, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche e di sponsor privati. Benvenuti all'incontro conclusivo della nostra Notte Bianca dal titolo Franco Basaglia, Profeta di Libertà. L'incontro si articola in tre momenti, il primo con Pirco Peltonen e Peppe dell'Acqua, il secondo con Franco Rotelli, il terzo con Silva Bon, Dario Mattiusi e Assunta Signorelli. Coordina Marina Silvestri. Vi ricordo che l'incontro è in collaborazione con il Centro Esontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale, Leopoldo Gasparini di Geradisca di Sonzo e che seguirà il Buffet della Notte Bianca preparato dall'Associazione Rosa dei Venti e Gruppo Manni in Pasta. Buona nottata a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Iniziamo questa prima parte con la memoria, la memoria di un periodo, la memoria di un uomo, di un uomo definito profeta di libertà, Franco Basaglia. In un momento dove la libertà sembrava a portata di mano, perché parleremo del 1968 e parleremo anche della donna e della libertà. Quindi faremo un viaggio attraverso un periodo storico e faremo il viaggio attraverso un periodo storico in cui molte cose sono cambiate, ma come tutte le cose che vengono appunto dette dai profeti c'è sempre il rischio che se la memoria si perde queste parole si disperdono nel vento. Quindi è importante che questa memoria venga conservata e la memoria si conserva nei libri, ma non solo, si conserva anche dal novecento in poi, si conserva anche su altri materiali, si conserva con il cinema, si conserva con la parola. Noi abbiamo qui una scrittrice, regista finlandese, giornalista, Pirko Peltonen, che nel 1968, attirata dal profeta Basaglia, viene a Gorizia. Scopre un mondo di cui adesso le chiederò perché è venuta a Gorizia, che cosa aveva sentito di quest'uomo, di questa stagione, di questa esperienza. Peppe Dell'Acqua è stato un collaboratore di Franco Basaglia per quasi vent'anni, direttore del Dipartimento. Per dieci anni, collaboratore di Trieste, un collaboratore per dieci anni. Che purtroppo è morto prima in Basaglia. Ecco, quindi avremo due testimonianze importanti. Ci sarà questo filmato, girato dalla signora Peltonen, La favola del serpente. Prima del filmato lei ci parlerà del perché questa immagine del serpente, come di qualcosa che si insinua dentro la persona e ne controlla la volontà. perché questa è una delle immagini forti con cui può essere descritta la malattia mentale. Io vorrei chiedere, proprio per entrare nell'argomento, a Pirko Peltonen e questo profeta. Quando lei è venuta a Gorizia, è venuta attirata da cosa? Da quale aurea che cominciava a girare attorno a quest'uomo? Sì, devo dire che sono anche un po' commossa di essere qua. È la prima volta che metto piede a Gorizia dal 1968. Sono passati 44 anni. Quella volta ero venuta qua appunto per fare questo filmato, di cui adesso vi spiego un po' per capire come mai è potuto nascere, come mai che la radiotelevisione finlandese ha voluto farmi fare questo filmato. Il film che voi vedrete è commovente anche il film perché dal punto di vista proprio di fattura filmico, fattura cinematografico è molto ingenuo, è molto didascalico. Ha il pregio, io credo, ed è questo il motivo per cui spesso mi viene chiesto di presentarlo quando si parla di Basalia, che per qualche strano caso, non tanto strano, adesso vi spiego perché, questo piccolo filmato di 30 minuti capita di essere il primo in assoluto filmato fatto su quello che poi è diventato esperimento antipsichiatrico, esperimento di liberazione dall'istituzione, insomma di tutto quello che ha caratterizzato il lavoro di Franco. Per rispondere alla domanda forse è meglio che spiego velocemente ma un po' di che cosa si tratta. Benissimo. Allora prima di tutto appunto correva l'anno 68. Quello che voi vedrete è perfettamente un prodotto cosiddetto sessantottino, prodotto dalla radiotelevisione finlandese, perché io sono d'origine finlandese, testimonia dei fermeti culturali liberatori in quegli anni fortemente sentiti in tutto il mondo, dalle università californiane alla Germania, alla Francia, all'Italia, ma anche alla Finlandia. Erano gli anni per così dire dell'immaginazione al potere. Il 68 parigino era limpido nelle menti di tutti, anche di Basalia che aveva passato molto tempo a seguire a Parigi la rivolta degli studenti del 68 e così quel 68 era perfettamente limpido in mente anche in me e in mio marito, perché anche questo conta, quando per la prima volta aprodammo a Gorizia e incontrammo Franco e Franca Basalia. Era per un sopralluogo la prima volta, avevo appena firmato il contratto con la televisione del mio paese per questo filmato, questo sopralluogo devo dirvi mi e ci, anche a mio marito, cambiò la vita. Se ho avuto dei maestri nella mia vita questi sono stati Franco Basalia e Franca Basalia Ongaro. E adesso questo è importante dire come si viveva in quegli anni. Allora, io ero appena arrivata in Italia ma già impregnata dalla rivoluzione culturale che in quegli anni si stava facendo strada anche in Finlandia. La lettura del libro di Franco istituzione negata mi aveva stregato. Vi vedevo, come molti di noi, le basi concrete per un vero cambiamento della società. In questi termini parlammo allora. Ed è a un capitolo di questo libro di Franco che rimanda il titolo del documentario La favola del serpente. Subito all'inizio del documentario sentirete che cosa è La favola del serpente. La stessa fattura del documentario rimanda a quegli anni. È in bianco e nero, ci sono grandi dialoghi, non c'è quella azione veloce come oggi sarebbero nei documentari. Però quello che forse colpisce ancora oggi e colpisce ancora oggi anche a me e in qualche modo lo sguardo puro, innocente ma puro, che allora avevo posto sulla vivace e variegata comunità dell'ospedale di Gorizia. Non poteva essere diversamente. Visitando i reparti, passeggiando lungo i viali dell'ospedale, questo ospedale di Gorizia guidata da Franco Basaglia, il suo pensiero puro mi aveva contagiato. Ed è quella purezza che voglio ancora oggi conservare dagli anni della immaginazione al potere. Per chiudere giusto, per farvi capire come eravamo in quegli anni, bisogna sapere che la scena del ballo e dei palloncini che volano via simboleggiando l'apertura del manicomio, quella scena fu girata da mio marito durante quel sopralluogo, quindi non ero qua ancora con la troupe televisiva, aveva portato con sé la sua ingombrante vecchia camera di 16 mm che nessuno usa più, apparecchio eccezionale che richiede appunto immaginazione molto di più delle videocamera digitali di oggi. E adesso se volete... Io voglio sentire ancora un qualcosa da Pepe Dell'Acqua su quegli anni di purezza. Quindi diciamo la psichiatria era figlia di un altro tempo e in quegli anni la psichiatria si scontra con un movimento di idee, con un'istintualità giovanile che chiedeva altro, che non sopportava più che l'uomo, la persona umana fosse costretta in certi ambiti. Che cosa è successo? Cosa vi sentivate attorno? Beh, noi non sapevamo niente, almeno io, del manicomio. Ero un giovane all'università e non credo, ma questa è la mia opinione, che il 68, come si dice, abbia a che vedere come momento di spinta iniziale di quello che stava accadendo a Gorizia. Il movimento, come è stato per me, ha scoperto Gorizia a partire da queste cose che tu hai detto. Ma le cose che stavano accadendo a Gorizia avevano delle radici un po' più lontane. stavano in una dimensione, come dire, di interrogazione che Franco Basaglia e altri, soprattutto a partire dal dopoguerra, hanno cominciato a porsi. C'era la questione della comprensibilità, dell'interrogarsi, insomma, sulla comprensibilità delle persone, del malato di mente. C'era l'interrogarsi su cosa sono le istituzioni, le psichiatrie che in quel momento le fanno. E credo che queste interrogazioni, dobbiamo ricordare che era recentissimo l'uscita in Italia di Goffman, Asylum, era recentissimo l'uscita di Michel Foucault, La storia della follia, e Franz Fanon. Insomma, stavano accadendo delle cose e Basaglia credo che a posto delle questioni che hanno affascinato noi e hanno spinto noi a trovare, fortunatamente devo dire, in questa dimensione teorica e operativa alla fine, la possibilità di continuare ad essere in quella, come dire, prospettiva di cambiamento, in quel desiderio di cambiamento, in quella forse, in quelle atmosfere che anche la signora Peltonen ha sentito venendo qui. Credo che sia un po' così. Ecco, io non riesco a vedere come Basaglia frutto del 68. Piuttosto vedo una cosa diversa, vedo il 68 che dà la possibilità, insomma, a Basaglia di far comprendere delle cose e così avanti. Però questo forse è anche un mio limite, non sono uno storico. D'altra parte devo dire che questo film, per me, io quando gli organizzatori hanno chiesto facciamo qualcosa, ho pensato subito al film della signora Peltonen, anche se subito dopo di lei c'era stato qui Sergio Zavoli con un altro documentario cult, come si dice, ma questo primo era un po' sconosciuto. Secondo, per me c'è una cosa che mi emoziona, ma proprio in maniera, come dire, fisica, e che loro hanno la fortuna, e voi vedrete questa signora che bella che è, di riprendere un'assemblea goriziana. Io ne avevo sentito parlare dopo, perché io non ero a Gorizia, dell'assemblea e vedo l'assemblea. Benissimo, allora facciamo questo tuffo nel tempo. Giusto due cose. Non vorrei che lo vedessimo come un tuffo nel tempo, perché questo film parla di futuro. Bene. Non parla di memoria. E ma bisogna sempre tuffarsi nel tempo. Certamente, anche per cogliere il futuro è un tempo, anche quello. Benissimo. Ci spostiamo tutti. E mentre ci spostiamo la faula del serpente non è la metafora della malattia, va compreso, è la metafora dell'istituzione. Questo è un altro punto forte. Perfetto. Nel libro di Davide. Questo film è girato in italiano. Ci sono degli spiccheraggi, diciamo, esplicativi, che in questo originale io ho detto in finlandese, ma in questa situazione ci parlo sopra in italiano. C'era una volta un uomo che, riposandosi sotto un albero, si addormentò. A sua insaputa, un serpente si introdusse nella sua bocca e scese fino allo stomaco. Quando l'uomo si svegliò, si rese conto di non avere più una propria volontà, ma dovette sottomettersi alla volontà del serpente seguire i suoi ordini. Così andò avanti per lungo tempo, finché un giorno il serpente, così come era entrato, inaspettatamente uscì dalla bocca dell'uomo ed egli era di nuovo libero. Ma il serpente l'aveva tenuto in suo potere per troppo tempo. L'uomo aveva perso il proprio io e la propria volontà e ora non sapeva cosa fare della sua nuova libertà. Al posto del serpente trovò un vuoto dentro di sé. No, non viene in Italia. Noi vorremmo presentare ai malati di mente e al pubblico in Finlandia su com'è va la vita in Gorizia. Noi siamo con Goriziani italiani e gli altri stati che si vede per le proprie combinazioni. Se tutti però ragionassero come me, la penicillina sarebbe rimasta in Inghilterra. E non avrebbe salvato milioni e milioni e milioni di persone come li sta salvando oggi. E adesso ti spiego perché. Perché questo sistema nuovo di cura porta dei vantaggi, dei risultati positivi, terapeutici a tutta l'umanità. Per cui non è che denigri noi, anzi ci onora e fa onora ai medici italiani l'aver attuato. Tra i primi, questo nuovo sistema di cura. C'era un'altra domanda fatta a me quando si parlava di questa ripresa. Voi mi avete chiesto di essere pagati per questo servizio. Adesso io vorrei sapere perché voi pensate che io vi debba pagare. Ammettendo che ci siano dei militari in una caserma e lo Stato dice ai militari, non dite dove ci sono i luoghi di contrabbando perché è un segreto. Pur questo può essere considerato un segreto. Anche questo ospedale psichiatrico, anche se è una stupidaggine o se è una cosa importante, questo io non lo so, può essere considerato un segreto. Noi personalmente non abbiamo a trarre nessun vantaggio da questa intervista, anzi semmai svantaggio. Qui ci stanno per esempio dei medici, i quali sanno che tutti i casi per esempio di malattie strane o malattie che presso la società vengono considerate tare, società non all'altezza di dedicarle, vengono riportate sui testi con una specie di maschera davanti agli occhi, morbo di Fredric, mascherina davanti agli occhi, morbo di Simmons, mascherina davanti agli occhi. Questa ragione è tanto più grave e forte per noi che siamo purtroppo ancora considerati matti, quindi da questo noi abbiamo soltanto a perdere. La carriera del malato di mente inizia quando la società, col pretesto di cambiare la società, curarlo, lo separa dal resto del mondo e lo rinchiude dentro le mura dell'ospedale psichiatrico. Lì dovrà dimenticare se stessa e la sua volontà, sottomettersi alla volontà dei medici e degli infermieri. Sulla vera natura della sua malattia non esistono tutt'oggi certezze scientifiche, ma per guarire dovrà accettare la sua nuova condizione di uomo senza diritti. Perché se si ribella, se non accetta, significa che è giusto che stia lì, che non è ancora pronto per uscire. La realtà manicomiale rende evidente l'insussistenza dell'ottimismo terapeutico. La privazione della libertà, l'accantonamento dei diritti e dei doveri, la riduzione ad oggetto, non sembra collimare con gli assiomi della scienza. Con la scusa della terapia, il manicomio toglie ciò che nel paziente era di individuale e di suo e il paziente ha davanti a sé due strade o si abitua a considerare l'ospedale come la sua nuova casa permanente oppure prova a migliorare quel tanto che basti per poter ritornare in quella realtà che lo aveva fatto ammalare. La lotta contro la violenza dell'istituzione, riscatto del paziente riportandolo dalla condizione di passività alla responsabilità individuale, sono le regole della comunità terapeutica dell'ospedale provinciale psichiatrico di Gorizia. La vita ospedaliera è scandita da numerose riunioni, assemblee, dove si discutono le regole dell'organizzazione interna ma anche temi più generali come il rapporto tra il malato e la società. Sulla vita comunitaria si decide nell'assemblea quotidiana, così fu anche per la realizzazione di questo filmato che fu messa e voti. I pazienti non volerano ridursi ad oggetti di ripresa. Il rapporto tra loro e chi li voleva riprendere con la macchina da presa diventò una negoziazione tra chi acquista e chi vende. ...olemaan kuvattavia esineitä. Suhde ulkopuoliseen, joka tarvitsi heitä kuvauskohteikseen, muodostui työnantajan ja työntekijäin väliseksi neuvottelukseen. ...quando ti avresti spagato? ...quando ti avresti spagato? ...un terzo... ...tu che senso? ...perchè il fondo quello che lavora siamo noi l'assemblea, perchè la signora diceva tutto quello che noi di assemblea diamo, che inoltre dovrebbe lavare noi il tutto, e noi il terzo, noi il cattuto e noi il terzo, quello che abbiamo abbastanza poco, e in fondo gli attori siamo noi, se domani viene Rita Pavone qua, non vuole il terzo, ma vuole parecchio migliorare. ...se li danno bene, se no non apre bocca, ma noi non siamo Rita Pavone, siamo dei poveri e malati che ci contiamo un terzo del suo guadagno, non del tutto, del suo guadagno. ...per la stessa ragione, in quanto noi, come ha detto il Capitano adesso, siamo gli attori, sia pure di breve durata, sia pure comparse, sia pure generici, e quindi come tali vogliamo essere pagati. Davanti alla macchina da presa, i pazienti si resero conto di essere degli attori, e si discusse se chiedere una somma di denaro ad uso della comunità, oppure se accordarsi su una copia del filmato. Conto tutti, conto i due, uno, penso, abbiamo giocato per i soldi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, fino adesso dodici, tredici, alzate bene la mano. ...dici e sette, li abbiamo contati, li abbiamo contati di dici e sette. ...perche? ...per i soldi, per i soldi. ...per i soldi. ...e adesso a chi gli interessa? ...adesso alzi la mano a chi interessa il filmato, alzi la mano a chi interessa il filmato. Conta, contami, 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 forni, 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 sei di tutti. ...per i soldi, 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 i soldi. A partire dal 1961 nell'ospedale di Gorizia sono stati aperti una dopo l'altro tutti i reparti liberando i pazienti dall'istituzionalizzazione. L'ultimo reparto chiuso, quello cosiddetto degli agitati, fu aperto un anno e mezzo fa dopo moltissime discussioni e riunioni tra medici, infermieri, gli stessi pazienti. La gerarchia tradizionale ospedaliera è stata totalmente eliminata, i 9 medici e i 150 infermieri partecipano alla vita della comunità terapeutica con gli stessi diritti e le stesse responsabilità dei pazienti. Tutti i pazienti, circa 500, possono muoversi liberamente, non vi sono lucchetti o recinti. Possono partecipare liberamente alle varie attività offerte dalla comunità, riunioni, cinema, ballo di sabato, gite nei paesini vicini. Anche lavorare è facoltativo e siccome viene pagato pochissimo, molti pazienti pensano sia meglio non lavorare. Come on, let's twist again, what was it last summer? Yeah, let's twist again, what was it last year? Come on, let's twist again, what was it last summer? Yeah, let's twist again, what was it last time is here? Round and round and up and down we go again, oh baby make me know, you love me so... Quando che erano i riparti chiusi, adesso c'è come il giorno o la notte, sa cosa la notte al giorno diventava? Il giorno è chiaro. Gli ho chiesto di lasciarmi alla sera la finestra aperta che gira un po' d'aria, mi ha detto brutto singolo, no, non si deve. Allora ho chiuso tutto, ho uscito fuori lui, ho preso la potenza dal cielo, ho spagato via un canto mare là e ho spagato tutti i vetri. E cosa è successo dopo? Dopo è successo che tutti stavano a spiare per la porta ma nessuno andava dentro. E aveva paura di lui? E aveva paura. Adesso 600.000 volte meglio perché... Perché era un divertimento quando scappava qualcuno. Scampavano più in quella volta, saltavano le reti. Voi cosa pensavate quando si atteguavano? Eh, scampavano, ma erano contenti noi. Perché? Forse io si atteguava di libertà perché sa come che era, sa cosa che diceva la gente. No? Non lo sa? No. Quando suona, ogni morto, adesso non suona il campanello, ogni morto si suona quando che lo so, terra adesso il morto. Sì. Ma una volta subito che moriva un avvertiva e non suonava la campana. Sì. Quando che morivano. Allora quando che sentiva suonare la campana, sa cosa che diceva? Non so. Oh, ve dirò io, dicevano. Oddio, quando suonarà anche per me, quando morirò io, che tu puoi fare quella vita qua, che non c'è, perché se mi avessi nelle galerie, se mi stanno più bene quelli che sono nelle galerie, che non noi, perché almeno quelli che sono nelle galerie, sanno quando che usca, escono, no? Mentre noi qui non sappiamo nulla, era un infermiere che si chiama Tobia, no? E che diceva ai malari, ben presto andrò a casa, casa a te, la tua casa, il cimitero, due metri di terra sopra di te, quella della tua casa. Vorrei chiarificare che questo mondo di violenza non era colpa di nessuno. Cioè, non mi sembra che sia il caso di prendere gli infermieri come capi spiattori di questo mondo di violenza. La violenza degli istituti chiusi, i psichiatrici, come di tutte le istituzioni chiuse, cominciando dal campo di concentramento, andando a finire all'ospedale psichiatrico, sono istituzioni nelle quali tutto deve procedere in un determinato modo, con una determinata efficienza, perché altrimenti l'istituzione non va avanti. L'ospedale chiuso ha bisogno di regole che cominciano alla mattina e finiscono alla sera e tutti devono passare per queste regole, malati, infermieri o medici che siano. Perché negli ospedali tradizionali la mentalità dell'infermiere è una mentalità proprio da custode, perché c'è una cultura particolare, entra e trova una cultura particolare, entra che nelle scuole preliminari, le scuole che così servono per andare a lavorare nelle scuole psichiatrici tradizionali, si parla principalmente di un malato, di persone dalle quali uno deve guardarsi perché sono pericolose, persone dalle quali uno deve difilare perché sono pericolose. E questo crea nell'infermiere la mentalità del custode. Non si poteva con un malato per esempio avere un rapporto lungo per poter capire, intuire da lui, perché c'erano altre cose da fare e da seguire, perché i superiore ci dicevano, ma se tu perdi il tempo lì, stai attento là, allora... Oggi con il nuovo sistema tutti lavoriamo sullo stesso piano, cioè degenti, infermieri e medici. Questo nuovo modo di procedere, questo nuovo modo di vedere i rapporti all'interno dell'istituto, tenderebbe proprio a rompere questo cerchio istituzionale chiuso e di dare la possibilità ad ognuno di espandere la propria personalità. In modo che se violenza c'è, questa è una violenza individualizzata e non una violenza istituzionalizzata. Perché il rapporto che io ho con un malato può essere anche un rapporto violento o può essere anche un rapporto buono, ma è importante che sia un rapporto particolare in cui io mi incontro con lui in una determinata dimensione. Con le riunioni e le assemblee che si fanno in questo ospedale, si possono continuamente discutere e cercarsi non di risolvere, almeno dare la possibilità al digente di esprimere le proprie idee e far valere la propria personalità. Molte persone che esercono questo tipo di nuova psichiatria pensano che il fatto che l'ospedale sia aperto crea una nuova relazione tecnica tra medico e malato. Noi sappiamo che in paesi ad alto livello di vita il problema psichiatrico è stato proprio affrontato così. Gli ospedali sono molto belli, tutto è lucido, le nurse sono molto carine, i giardini sono pure molto belli, i malati escono a passeggio, ma esiste sempre un divario ben netto fra quello che è il medico e quello che è il malato, fra quello che è il infermiere e quello che è il medico, fra il medico e l'infermiere, fra l'infermiere e il malato. Il problema dell'ospedale migliorato, dell'ospedale che tecnicamente si è evoluto, sia un problema evidentemente politico, cioè un problema in cui la società risponde in modo diverso, differenziato rispetto al passato, rispetto al primo. E perché la società risponde in modo differenziato? Perché risponde in modo diverso? Perché la società non riusciva più a tollerare la violenza così manifesta, con cui l'ospedale psichiatrico reprimeva in modo violento, in modo degradante, i comportamenti all'umore. Se prima la psichiatria si muoveva con l'ideologia violenta, oggi si deve muovere con l'ideologia di tolleranza. Ed è qua che è il centro del nostro lavoro. Ed è qua che noi non è che diciamo che abbiamo aperto l'ospedale per fare una nuova tecnica. Abbiamo aperto l'ospedale per negare la violenza. E adesso questa è negazione che noi impostiamo tutto il nostro lavoro. Noi diciamo così, perché non possiamo usare un'altra parola, che il nostro lavoro è essenzialmente politico. E lo riaffermiamo ancora. E' politico perché non è tecnico. Perché noi ci rifiutiamo di avvicinare una persona con una tecnica, o con una tecnica che può essere rappresentata da una pastiglia, o da un buon nome, di una terapia come può essere per esempio una terapia analitica. Un intellettuale, un professionista, un medico, che vogliano rifiutare il compito di integratori, di risolutori dei conflitti sociali che la società propone continuamente, ecco, si trovano di fronte a un impegno che non è più semplicemente un impegno morale, come talvolta viene ricordato a Basaglia, da colleghi che non condividono le opinioni di Basaglia, ma un impegno che è senz'altro un impegno politico, un impegno di lotta, io direi. E cioè la lotta per rifiutare continuamente di contrabbandare per tecnico ciò che è politico. Il malato che entra in ospedale non è una cosa, non è una cosa da guarire e rinserire, ma è un individuo che ha particolari problemi che devono essere affrontati in un particolare modo. E non c'è nessuna tecnica che possa affrontare questi problemi, tecnica intesa come attesamento ideologico per superare determinate contraddizioni che sono alla base dell'individuo. In questo senso penso che noi dobbiamo affrontare il problema della psichiatria. E mi rifaccio in maniera particolare a un manifesto che gli studenti francesi di Rivolta hanno fatto a proposito delle scienze cosiddette umane. Gli studenti francesi dicono che le scienze umane, inserendo fra queste la pedagogia, la psicologia, la sociologia e anche la psichiatria, dicono appunto che queste scienze sono scienze ortopediche. Sono scienze ortopediche perché rappresentano delle protesi con cui sostenere un sistema che opprime e sfrutta l'individuo. Per i pazienti esiste oggi l'alternativa di ritornare alla società produttiva. Prima della scoperta dei tranquillizzanti, la società, per difendersi, si accontentava ad isolare gli elementi diversi. Ora che gli psicofarmaci hanno dimostrato che il malato non è necessariamente pericoloso, la società lo accetta, a patto però che non disturbi, non metta in discussione le norme delle nostre società che si posano sui fragili pilastri dell'efficienza e della produttività. A me è un'idea di a questo compito all'istituzione psichiatrica. Cioè noi vi mandiamo delle persone che hanno un comportamento che noi riteniamo malato. Riteniamo malato. Queste persone voi dovete curarle e restituircele con un comportamento accettabile dalla norma, accettabile da noi. Se queste persone non prendono questo comportamento che noi possiamo accettare, dovete custodirle, dovete tenerle, tenerle lì, praticamente. Ed ecco che si ha proprio il compito di esclusione o reintegrazione. Difatti noi sentiamo molto spesso questa parola reintegrazione sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire una persona che è uscita dalla norma del vivere sociale e che la società vuole che ritorni in questa norma. E a queste condizioni. E a quelle condizioni naturalmente tutto. Noi sentiamo molti malati, dicono anche oggi io voglio uscire. Ma poi quando fuori sentono che dovrebbero in un certo quel mondo perdere qualche cosa di loro stessi, perdere qualche cosa di loro stessi per vivere con gli altri, anche nella famiglia, anche nella piccola società costituita dalla famiglia, dicono no, ma io preferisco rimanere qui. Perché qui i comportamenti diversi? Perché qui i comportamenti diversi, ma almeno dice qui ci troviamo un comportamento diverso, ma siamo praticamente tutti uguali. Qui fa più, fa più, non so come dire, fa più società. Insomma fa più comunità, fa più... Qui non esistono norme. No, sì, ci sono delle norme, ma sono norme che vengono continuamente messe in discussione, discusse. Gorizia Sassuori, dettavanti io in Tannara. Il lavoro fatto a Gorizia è quello di far prendere coscienza ai malati del fatto che il problema non è la malattia in sé, bensì la condizione di reglietto in cui finisce a causa della malattia. Questa coscienza può anche significare l'inizio della vera guarigione quando il malato comincia a vedere la sua malattia nella sua vera dimensione sociale. Ma la libertà e la vita senza recinti non risolve il problema tra il malato e la società e neppure Gorizia ne è immune. Sta nascendo una nuova gerarchizzazione all'interno dell'ospedale tra i nuovi arrivati che vi rimangono per pochi mesi e gli altri invece che sono in ospedale da sempre. Nel grado di malattia, ma nel trattamento no. E questo è importante perché la riduzione dell'eccitazione quando tutti vengono considerati alla stessa stregua, allo stesso livello è notevole e rende l'ambiente uguale, un ambiente omogeneo un'atmosfera che tutti possono vivere, che tutti possono respirare. che i malati più gravi siano in reparti diversi. Io? Sì. In relazione alla gravità. Sì, effettivamente, perché se io considero, scusi un attimo, se io considero che io, che il mio periodo qui, non di permanenza, è di 15 giorni, mentre vi sono persone che sono 3, 4, anche 20 anni, oso pensare che effettivamente esiste anche un certo grado di malattie ambientali, che differenzia l'uno dall'altro. Pensa che quelli che sono negli altri reparti sono malattie. Quelli che sono invece nel reparto nel quale lei sta, stanno poco tempo e quindi non sono malattie. Una cosa simile un po' a quella di prima. Ma anche negli altri reparti c'è della gente sana, che i parenti per varie cause non li vogliono accettare a casa e allora per forza devono stare qui dentro. Perché sono delle amiche leggi. Ecco, va bene, vecchia legge o nuova legge sono anche i parenti, perché il professor Basaglia è d'accordo, sempre stato, di mandare fuori più ammalati che sia possibile. O parenti o non parenti, se non li vogliono accettare, e allora per forza, non per questo che il reparto ha solamente la gente, come dice lei, che ha un esaurimento nervoso. No, ci sono degli ammalati che sono anni e anni, che sono sani, oppure anche ammalati di più. Ecco, mi posso dire questo per esempio, il mio esempio per esempio, la mia esperienza personale. Quando sono entrato qui, in quella sera, ero calmissimo. Poi ho visto alcuni ammalati ridere, sorridere, muoversi in modo strano, e sono stato così agitato che quando è venuto il medico mi ha detto ma lei è molto e molto malata. Vedevo, cioè, vedevo, non da persone normali, insomma, che ridevano per uno nulla, oppure dall'espressione del viso, così. Non pensa che ci sono fuori le persone che agiscono nel mondo, che sono altrettanto malate quanto le persone che sono qua? E allora come mai fuori lei non si preoccupa e qua si preoccupa? Del rapporto con queste persone più rari. No, perché io non avevo mai visto un ospedale del genere. Forse è la prima volta che vengo qui, io non ho mai visto un ammalato. Ma il fatto è proprio come lo sta mettendo lei adesso in questo momento. Fuori c'è da preoccuparsi. Dentro invece si trova un ambiente, direi proprio meno pazzo, cioè più comprensivo dei bisogni l'uno dell'altro, per cui la cosiddetta pazzia viene accessata. Si parla un po' dell'apertura, un po' così come se l'apertura fosse qualche cosa che potesse annulare la malattia, che non è significato. Ha ragione il professore quando dice la contraddizione della scienza sta in questo, nell'ospedale chiuso in modo particolare. Il malato viene considerato una persona malata, ma viene trattato come un escluso sociale. Cioè la scienza lo considera malato, lo etichetta come schizofrenico, paranoico, insomma quello che vuole. Mistificando. Li mette un'etichetta, però non lo tratta come una persona malata. Lo tratta come una persona da escludere, da allontanare dalla società. Allora delega lo psichiatra e dice tu sei lo scienziato. Sei il guardiano di questa persona, praticamente. Non può dire sei il medico di questa persona. Naturalmente l'apertura può essere una mistificazione, perché l'apertura nel momento che non è vissuta in maniera così dialettica diventa una chiusura, perché è sempre una dimensione. E cioè praticamente noi mettiamo al posto della violenza che avevamo prima, mettiamo la tolleranza. Mettiamo la tolleranza che è anche sempre una violenza. Praticamente che noi apriamo, chiudiamo l'ospedale, il sistema non interessa assolutamente niente. L'importante è che noi come psichiatri, malato come malato, non turbiamo la quiete pubblica. E non turbiamo cioè il senso e la funzionalità di quell'istituzione che è nata per un compito solo, escludere o integrare il malato. Questo è il significato dell'istituzione psichiatrica. E la scienza è soltanto e solo al servizio del potere. Allora io dico, che cosa serviamo noi? Noi serviamo soltanto per escludere. Cioè per facilitare il modo di ingoiare quel serpente che ci distrugge. La realtà manicomiale dimostra che in questa società siamo tutti schiavi del serpente e se non cerchiamo ad ogni momento di sputarlo fuori non saremo mai più liberi. voleva fare da lì. correva l'anno 68 un bel ritorno a Gorizia un bel ritorno a Gorizia un bel ritorno a Gorizia allora adesso parliamo di altre testimonianze parliamo della collana 180 parliamo di un libro uscito e di un libro che è uscito oggi allora la città dei matti dopo Gorizia diventa protagonista Trieste Beppe dell'acqua ma io credo che stasera sono tre libri uno più bene dell'altro questo c'era una volta la città dei matti ma devo dire due parole sulla collana collana 180 è un po' quello che tutti sanno archivio critico della salute mentale un'idea che ovviamente ci ha perseguitato un po' perché di tutte queste cose si rischia di perdere il senso di perdere la memoria e chi ha a che fare anche con i giovani a insegnare si ritrova con una colpa nostra di non aver messo in campo e prodotto elementi strumenti di conoscenza 180 è nato con questa idea il primo libro pubblicato come una riproposizione di storia di un evento altrettanto straordinario come l'assemblea che era il cavallo che esce da Trieste è il primo che esce in questa collana il secondo riguarda tantissimo Gorizia perché credo che tutti voi abbiate visto chi non ha visto c'era un'altra città dei matti con Fabrizio Gifoni è stato un film che è andato in onda potete alzare chi l'ha visto? no, non chi l'ha visto c'era una volta la città dei matti il film che è andato in onda la televisione sì, quanti? oh, evviva beh, chi non l'ha visto c'è questo libro che racconta ovviamente il trattamento la storia sono tanti che non l'hanno visto con il DVD ovviamente delle due puntate la sceneggiatura che sta in questo libro rispetto al film la sceneggiatura cosa aiuta a mantenere proprio del discorso perché nel film l'impatto era anche appunto visivo era l'impatto anche con i luoghi forse la sceneggiatura permette un impatto con gli argomenti qui credo che la decisione di pubblicare un libro è stata quella di pubblicare soprattutto il trattamento che è un racconto grande molto più grande di quello che poi è il film e c'è una come dire un corredo di note che ovviamente riescono continuamente a riportare dentro una dimensione reale o comunque di storia quelle che invece è anche una come dire un espediente narrativo un film che è stato visto nel mondo che è un film che è stato visto da circa 7-8 milioni di persone quando è stato fatto è stato sottotitolato in inglese in francese e sta girando per università per scuole ma le cose più straordinarie sono due una che è stata sottotitolata in farsi voi sapete che cosa è il fa io non lo sapevo voi lo sapete è la lingua persiana dell'Iran ma lo sapevo anch'io dicono lo sapevo è un po' strano insomma naturalmente sono state il film è stato depurato di tutte le parti scabrose perché in Iran sono molto rispettosi della donna e quindi non volevano vedere delle scene che potevano essere di violenza naturalmente ed è stato distribuito dall'organizzazione mondiale della sanità in tutti questi luoghi ma la mitologia è la seguente è stato sottotitolato in turco e pare che lo abbia visto il ministro turco che si stava accingendo a fare la riforma dell'assistenza psichiatrica in Turchia e voleva fare tanti piccoli manicomi al posto dei grandi manicomi un po' come vogliamo fare anche adesso in Italia perché siamo stanchi di sta storia basagliana e basta meglio fare un po' di manicomi sto scherzando voi mi capite che sto scherzando naturalmente ma quelli che pensano questo non stanno scherzando molto e pare che abbia visto questo film si racconta io non ci credo che visto questo film ha deciso come nei racconti di Mille e una notte che il suo insomma la gente che lavorava con lui doveva ad operarsi per chiudere i manicomi e si sono messi in testa che devono chiudere i manicomi pure in Turchia ma questa è una serata di libri bene ci sono questi e ci sarà io vorrei far venire sì infatti salire qui fra se c'è Franco Rotelli non lo so non l'ho visto prima fra il pubblico potrebbe c'è? è lì allora lo pregherei di venire sarà il bel libro di Silva Borg cioè sono tre tre occasioni una più bella dell'altra sì e mentre si avvicina questo libro contiene è un testo di Franca Ungaro Basaglia le parole della medicina allora io molte volte penso che anche come dire le cose le ciclopedie sono una cosa calda che va letta non come un testo è un testo che può contenere delle dimensioni certe volte letterarie e poetiche molto belle queste voci di cui parla il libro però penso che Franco Rotelli debba essere microfonato per cui sta arrivando adesso qualcuno ecco io conosco della Franca Ungaro Basaglia ed è stata veramente per me una guida di riflessione la voce donna scritta qui invece si parla delle voci delle voci della medicina il libro è curato da Maria Grazia Giannichedda che è stata anche una psichiatra che ha accompagnato l'avventura di Franco Basaglia siamo pronti per presentarlo ecco come questo libro cosa potrà cosa definisce di quel periodo e parliamo anche di Franca Ungaro Basaglia e della sua figura di donna a fianco di Franco Basaglia e quindi questa esperienza come dire questa condivisione anche di pensiero è difficile come dire decontestualizzarsi tra un libro e la realtà allora oggi tutti i giornali hanno riportato la notizia che ieri la commissione affari sociali della Camera ha votato a maggioranza l'idea di modificare ampiamente la legge 180 ieri non si sa l'iter naturalmente commissione affari sociali vuol dire poi che la cosa deve andare in aula alla Camera dei Deputati vuol dire che poi deve andare al Senato eccetera grazie a Dio in questo paese ogni tanto si vota e quindi si può anche sperare che l'iter di questa vicenda si interrompa rispetto alle elezioni prossime venture allora ecco io dico partiamo da lì perché i libri vanno letti secondo me a partire da ciò che si vive ogni giorno e non si può fare il contrario allora inclusione esclusione integrazione non integrazione crisi non crisi medicalizzazione libertà dal controllo sociale sono tutte parole che o noi riusciamo a a giocarci nell'oggi o perdono di senso mano a mano che passa il tempo allora purtroppo io penso che ciò che Franca e Franco Masaglia hanno detto e scritto e fatto purtroppo sta tutto dentro l'attualità ed è piuttosto raro che questo accada è piuttosto raro che qualcosa che nasce 50 o 60 anni fa sia così vivacemente acutamente drammaticamente attuale il libro parla di queste cose no cioè parla di come noi ci possiamo rapportare con la nostra e altrui sofferenza dentro il reticolo di istituzioni dentro il reticolo di norme dentro il modo con cui lo Stato in qualche modo regola questi rapporti oggi credo che sia quanto mai attuale immaginare se da questa crisi politica finanziaria economica sociale culturale che tutti stiamo vivendo se in una regione in cui si vuole cambiare dalla sera alla mattina l'assetto generale dell'assistenza sanitaria e quindi anche in primi sforzi alla fin fine dell'assistenza psichiatrica se in uno Stato in cui per la prima volta effettivamente una commissione parlamentare importante decide perlomeno in prima istanza di cambiare la 180 vuol dire che stiamo dentro un grande problema da questa crisi possiamo immaginarci di uscire in avanti o possiamo immaginarci che usciremo soltanto indietro tutti i sintomi dicono che ne usciremo all'indietro ne usciremo regredendo a quello che con gli auspici del senatore Marino sono diventati le prospettive dei nuovi piccoli ospedali psichiatrici giudiziari seminati in tutta Italia di cui è la legge del febbraio di quest'anno ne usciremo ripristinando un'idea di manicomio laddove ancora sia possibile perché siamo in un paese in cui l'Emilia Romagna ha 9000 posti letto psichiatrici oggi quasi tutti privati pagati naturalmente dal sistema pubblico quindi siamo in un paese in cui sì il serpente ci ha già mangiato tutto quel che c'era da mangiare allora la questione oggi la crisi potrà darci una speranza di fuori uscita da questa cosa o ci toglierà le ultime speranze allora le riflessioni di Franca Masaglia di Franco le riflessioni di un vasto movimento in qualche modo che ha posto le questioni di come le istituzioni totali in qualche modo poi si sviluppassero in istituzioni frammentarie frammentate che però controllavano le nostre vite controllavano le nostre vite con un apporto potente degli apparati scientifici ideologici culturali dei sistemi di definizione dei nostri bisogni di definizione dei nostri sintomi di definizione delle nostre diagnosi di definizione dei nostri corpi ecco che sviluppo potranno avere saremo in grado di liberare i nostri corpi come dire dalla politica saremo in grado di immaginare che la politica non deve più avere tutto quel ruolo che ha ma deve ritornare a occuparsi di questioni generali mentre noi dobbiamo avere il potere di riprenderci la felicità dei rapporti dei nostri corpi abbiamo possibilità di riprenderci il controllo dei nostri corpi quel controllo dei nostri corpi che nella lezione di Franco e Franco Masaglia è delegato troppo alla medicina alla medicalizzazione a dei sistemi di controllo che ci articolano attraverso scienze apparati istituzioni in particolare ovviamente l'attenzione del libro si rivolge ai processi di medicalizzazione ai processi non solo di psichiatrizzazione ma anche di appropriazione da parte della medicina di problemi allora stiamo molto attenti perché c'è un rischio io credo nella lettura di questi testi il rischio di immaginare che le cose avvengano in una medicalizzazione allora quando Franco critica fortemente i processi di medicalizzazione dei bisogni dobbiamo stare molto attenti dobbiamo stare attenti a un rischio di immaginare che ci sia una possibile deriva irrazionalistica una possibile deriva come dire per cui potrebbe essere meglio una setta che non la medicina allora la psichiatria ha molte colpe la psichiatria ha legittimato crimini di vario tipo e li legittima tuttora in molti luoghi d'Italia ma nello stesso tempo ciò che può sostituire la psichiatria potrebbe essere anche peggio della psichiatria ciò che può sostituire la medicina potrebbe anche essere peggio della medicina allora nel momento in cui abbiamo ancora una medicina che come dire sta a guardare il cadavere una medicina che ancora vive sull'occhio anatomico una medicina che guarda ancora all'uomo la donna come un corpo inerte come un corpo da studiare senza che ci sia un soggetto dentro senza che ci sia un interlocutore in tutto questo senza che la sofferenza abbia una dimensione soggettiva ma semplicemente una medicina che guarda un oggetto lo studia lo analizza ne fa quel che vuole ne decide quel che lui pare ecco di fronte a tutto questo certamente noi abbiamo il diritto il dovere di reagire certamente abbiamo il diritto il dovere di immaginare dei sistemi in cui la parola democrazia si inveri nel rapporto con la medicina si inveri nel rapporto con i saperi si inveri nel rapporto con le istituzioni scientifiche culturali sanitarie sociali eccetera in cui il potere di ciascuno venga ridistribuito in modo radicale io ricordo se la interrompo io ricordo perché poi il tempo stringe abbiamo ancora tre ospiti ma io ricordo in un'intervista anni fa che lei ha detto una cosa che per me è stata illuminante ha detto questo ma c'è qualche altra malattia che viene disciplinata per legge mi ha chiesto e questo qui è stato veramente evalso più di molti discorsi puntualizzare il fatto che solo tanto la malattia mentale aveva una sua disciplina nella quale entrava fortemente la politica questo è stata qualche anno fa ecco penso che oggi lei ha fatto bene cioè il libro adesso parleremo io vorrò sentire anche però qualcosa sulla figura di Franca forse ne parliamo anche nel nel prossimo nel prossimo intervento ecco un suo ricordo però in modo che presentiamo anche questo libro che è un po' uno dei soggetti questa sera io un ricordo molto semplice secondo me c'è sempre una dissociazione tra le parole e i fatti grazie a Dio grazie a Dio ci sono delle estremizzazioni verbali che vengono mediate nella realtà concreta nelle persone nobili allora una persona nobile secondo me è una persona che riesce a darti il segno di un discorso che trascende la quotidianità e trascende la realtà ma la persona nobile è anche la stessa persona che in quel momento in cui ti dà quel discorso sta con te nella quotidianità e nella trivialità del quotidiano ad affrontare le questioni che appartengono al quotidiano e alla trivialità del quotidiano allora credo che io ricordo che io e credo che le persone che hanno conosciuto Franca Basaglia hanno di Franca Basaglia è questa cioè appunto questa capacità poi di stare nel concreto di stare nel quotidiano di stare fianco a fianco e di riconoscere immediatamente come dire le cose buone delle pratiche le cose buone del concreto le cose buone della come abbiamo visto come abbiamo visto nel filmato dalle sue parole che erano parole che arrivavano dirette semplici chiare che aggredivano i problemi con estrema serenità ma efficacia sì io credo che non so io non credo che si possa parlare delle persone descrivendole questo è un vizio della psichiatria che parla delle persone come se si potesse descrivere le persone le persone non si descrivono le persone alle persone si vuole bene ci hanno rapporto si vivono si vive con le persone non si descrivono non si danno giudizi abbiamo imparato questo almeno avremmo dovuto imparare questo purtroppo non l'abbiamo imparato abbastanza i pregiudizi e i giudizi sulle persone dovrebbero essere qualche cosa che viene cancellato dal vocabolario dell'esistenza qualche cosa che dovrebbe essere cancellato dai rapporti interumani non dobbiamo avere pregiudizi e non dobbiamo dare giudizi sulle persone con le persone ci viviamo ci relazioniamo ci stiamo insieme ne viviamo ne soffriamo ne godiamo ma smettiamo di darci continuamente i giudizi uno sull'altro se qualcosa di questa lezione che riguarda specificamente la psichiatria si estendesse anche al mondo dei non matti al mondo dei suoi disanno ormali e se la smettessimo tutti di giudicarci continuamente forse ecco le parole qui distritte in questo libro avrebbero un senso molto più importante benissimo grazie Silvabon io la conosco da moltissimi anni è una storica una scrittrice ha affrontato problemi sociali molto molto forti e questa volta si è messa anche in un certo senso in prima persona in prima persona in un libro che si intitola donne attraverso soglie spazi confini libertà abbiamo l'editore Dario Mattiussi del centro Gasperini allora non c'è molto tempo e non tutte le tue testimoni potevano essere qui quindi chi sono le donne di esperienza che ti hanno aiutato a scrivere questo libro questo libro è un libro individuale è il frutto di un atto di coraggio il mio quello di fare un outing di raccontare la mia storia una lunga storia di esperienza di sofferenza e di disagio mentale ma è anche un libro collettivo un libro nel quale hanno scritto collaborato tante amiche persone e donne sia con esperienza appunto le donne che sanno che sanno che cosa è il disagio e la sofferenza mentale donne con potere le donne che hanno per istituzione diciamo il ruolo di aiutare le persone nei momenti di difficoltà in questo libro io ho raccolto tutta una serie di interviste che poi ho sbobbinato e che raccontano le storie dell'esperienza individuale delle singole protagoniste alla prima parte che è la parte personale più squisitamente diciamo mia e così in qualche modo di cui posso dire ho fatto dono in qualche modo insomma in questo libro c'è una seconda parte in cui ci sono degli scritti di donne con esperienza poesie testi di narrazione testi di racconto della propria vita della propria esperienza e interviste quindi diciamo che tutto il lavoro è un lavoro personale individuale ma anche un lavoro collettivo Assunta Signorelli tu hai diretto il centro salute donna a Trieste la malattia mentale quando incontra la donna la donna è coinvolta in diversi modi ma soprattutto anche nella cura ecco ho avuto anch'io modo di affrontare questo problema con le associazioni dei familiari ed è venuto fuori che quando c'è un problema un problema di disagio l'uomo scappa la donna rimane e quindi il peso della malattia e del come affrontare la malattia del come affrontare i medici e come affrontare il mondo esterno perché molte volte l'uomo quasi prova vergogna ad avere un problema in famiglia e quasi c'è una questione di rifiuto ho scoperto che ci sono anche delle crisi in famiglia persone che divorziano che se ne vanno scappa la donna ha su di sé tutto è vero questo? un discorso un po' complicato Rotelli prima diceva che bisogna partire dall'attualità beh l'attualità di oggi si dice che al 18 maggio già 54 sono le donne che sono state uccise dai loro compagni o da persone che sono in relazione affettiva con loro l'attualità ci dice che in questo paese proprio nell'onda di ciò che accade aumentano le contenzioni aumentano gli elettroshock in maniera molto forte ma la cosa così che è particolare è che aumentano gli elettroshock fondamentalmente questo aumento riguarda per quasi il 60% e più le donne fra i 30 e i 60 anni l'attualità ci dice che sono le donne le prime che vengono espulse dal mondo del lavoro che sono le donne quelle che stanno pagando il peso più grosso della crisi che viviamo in un paese dove come dire ancora è la famiglia la casa quella che l'attualità ci dice che tutti i processi di monetizzazione dell'assistenza e forse in questo rispondo alla tua domanda pesano sulle donne come e perché perché i vari bonus che vengono dati i bonus bebè i bonus familiari come dire il denaro che viene dato in cambio di servizi che forse in parte aveva anche una sua logica progressiva soprattutto al sud ma oramai questo è un paese che si sta meridionalizzando non è un caso che le proposte di legge che questa regione fa somigliano in maniera eccezionale alla legge sanitaria che c'è la calabria perché ho lavorato tre anni in calabria ed è molto simile ecco al sud tutte queste monetizzazioni dei servizi hanno significato un rientro per esempio delle donne in famiglia una forte uscita dal mercato del lavoro banalmente perché se non hai lavoro e te lo vai a cercare ti danno in cambio invece che l'asilo nido ti danno del denaro per il bambino beh a quel punto lì questo denaro serve a tutti ti danno denaro per tenere gli anziani in casa e vabbè insomma allora lasci il lavoro e sappiamo sempre che la donna che rie come dire se in famiglia comunque già la disoccupazione femminile è più alta di quella maschile e allora in famiglia se bisogna rinunciare al lavoro per tenere l'anziano in casa il figlio che ha l'handicap e così partecipare in maniera più forte a un processo di cura è evidente che è la donna che rientra e quindi come dire questo forse segnala delle cose sono numeri sono banali questo segnala la questione che sicuramente poi è una sofferenza psichica io voglio ricordare che la psichiatria parla di mamma schizofrenogena cioè mamma che con il suo rapporto col figlio produce schizofrenia non parla mai almeno io non l'ho mai letto di padre schizofrenogeno perché è come se soltanto in quella relazione allora credo che il rapporto delle donne con la psichiatria sia un rapporto estremamente difficile estremamente contrastato e contrastante ma per una ragione molto banale perché la psichiatria è la scienza della ragione la ragione che deve controllare i corpi le donne sono il corpo perché le donne del corpo sono il discorso questo storicamente ed evidentemente essere psichiatra e donne significa vivere costantemente questa contraddizione questa difficoltà di come dire di avere dei fronti modelli di ragione che vogliono che la donna essendo corpo sia comunque oggetto di controllo e sia comunque qualcosa è il disordine perché la donna è disordine perché i corpi sono disordine e quindi come dire evidentemente poi è quel disordine che è così che è l'unico che permette la vita perché l'ordine è la morte il disordine che è vita dovremmo anche sempre pensare a queste cose e allora è in questa difficoltà qui che la donna vive sempre la condizione di malattia sua o dei propri figli ma delle proprie mamme delle proprie sorelle dei propri compagni dei propri mariti non ha importanza è l'altro o l'altra che ti sta vicino che nel momento in cui soffre trova nella donna la risposta alla cura io non lo so se è un fatto naturale che noi sappiamo curare sappiamo accogliere sappiamo assistere perché assistere vuol dire stare vicino a stare presso e la medicina in questi anni è sempre di più attentato di togliere l'assistenza l'assistenza l'ha separata l'ha buttata via come qualcosa di sporco perché assistere significa sporcarsi le mani sporcarsi proprio anche fisicamente lo sa chi assiste chi sta male che deve avere a che fare con la sporcizia ma la vita è anche sporcizia non è solo pulizia e allora le donne sono sempre in questo doppio un'ultima cosa voglio dire ed è sempre quello che continua a colpirmi come dire come anche la sofferenza della donna la sofferenza psichica della donna si rivela soltanto quando diventa rottura di un modello di comportamento una donna che sta in casa e che non parla che non ha nulla da dire che sta sempre in silenzio o che forse sente anche le voci se continua a pulire casa a fare le faccende domestiche a fare tutta una serie di cose non arriva ai servizi psichiatrici così come una ragazza giovane che si chiusta in casa non esce non frequenta le persone eccetera eccetera forse va anche molto bene a scuola ma sempre in una situazione di isolamento ma viene considerata una brava ragazza se un ragazzo sta in casa sempre sta solo anche se va bene a scuola non ha amici non ha compagni non ha frequenta non esce subito la famiglia si preoccupa ecco io credo che già qui comincia una profonda differenza e che di questa differenza che è profonda anche nell'espressione della malattia la psichiatria anche la psichiatria liberata continua a non voler tenere conto c'è una differenza profonda come c'è una differenza profonda nel vivere quotidiano fra uomini e donne così c'è una differenza profonda nel vivere la condizione di malattia e io ancora non mi spiego perché si continua a pensare che la risposta deve essere la stessa per uomini e donne e allora come dire si confonde anche l'essere donna che soffre con l'essere donna che cura ed è come dire una specie di circolo vizioso dal quale non si riesce a uscire riprenderemo questo discorso io volevo sentire Dario Mattiussi all'interno delle altre pubblicazioni della collana che affrontano momenti di storia sociale di storia politica ecco la scelta di dare testimonianza di questa esperienza proprio all'interno degli altri argomenti che sono stati toccati dal libro che parla di guerra che parla di fatti ecco come come è stato inserito proprio all'interno della collana ma probabilmente come dire lo spazio se l'è preso nel senso che Silva è una nostra collaboratrice da tanti anni e quando ho proposto questo questo lavoro emergevano alcune cose diciamo si vedeva immediatamente che c'era anche questo riflesso importante di cui abbiamo parlato oggi di quello che è il lavoro di quello che è stato in qualche modo il segno di Franco Basaglia e si intuiva che questo approccio di genere per così dire fosse in qualche modo un qualcosa non voglio dire di negato ma comunque che non non emergeva chiaramente non si capiva invece non l'avevo capito io ad esempio non l'ho capito nella prima lettura insomma nella prima lettura del volume mi hanno colpito moltissimo le storie che ci sono dentro questi tanti approcci sia delle operatrici delle donne di potere come le chiama Silva sia delle donne di esperienza sono queste le prime cose che ti restano dentro non avevo capito invece lo capisco un po' la volta ogni volta che lo presentiamo e devo dire una cosa che comincia a pesare come dire l'attualità della denuncia che c'è nelle parole di Assunta Signorelli che c'è stata anche in tanti incontri che abbiamo fatto questo libro poteva essere preso inizialmente come un libro anche di storia sociale se vogliamo qualcosa che racconta in qualche modo un risultato non voglio dire un obiettivo raggiunto quindi una cosa del passato invece come si è detto all'inizio non è passato invece non è passato proprio niente ogni volta comincio insomma anch'io io stesso insomma rendermi conto e credo che lei lo abbia detto proprio in apertura di questo incontro di quanto sia importante invece portare fuori queste cose e tornarne a discutere Assunta Signorelli a me aveva colpito subito quando diceva che in qualche modo nella santificazione di Basaglia c'era un rischio terribile sempre nelle santificazioni c'è un rischio in dei musei c'è un rischio forse in questo paese però è ancora più pericoloso nel senso che appunto dietro Basaglia ci si poteva permettere tante cose ci si poteva permettere di non investire nell'assistenza ci si poteva permettere lentamente di ritirarsi in qualche modo da questo terreno e forse lentamente negli anni a mano a mano che questa figura di profeta in qualche modo come abbiamo detto oggi emergeva e si consolidava anche nella memoria è proprio questo paese che ha cominciato invece a investire sempre meno a lasciare sempre più soli gli operatori e chi i pazienti soprattutto e chi in qualche modo ha bisogno di questa assistenza e credo che anche questo libro in questo senso sia interessante anche per proprio per le dinamiche che racconta per come queste persone hanno dovuto supplire anche questo non si dice chiaramente ma lo si emerge in qualche modo emerge da da queste pagine sono donne straordinarie che come dire hanno investito tantissimo di loro e hanno supplito in qualche modo delle mancanze che sono invece delle istituzioni che sono nostre per così dire ecco abbiamo parlato delle istituzioni parliamo delle persone che si aiutano fra di loro confrontando la reciproca esperienza che è quello di molte associazioni a Trieste che lavorano su questo e danno molto ecco questa è una domanda importante che mi fa piacere a cui rispondo volentieri nel libro si racconta in realtà la storia è una storia sociale come ha detto il professor Macchiussi ma è la storia di gruppi di associazioni femminili e di gruppi di donne che liberamente hanno scelto di lavorare nell'ambito diciamo così della psichiatria ma anche diciamo come espressione della cittadinanza più libera più aperta triestina nella nella fattispecie donne che hanno operato che operano che continuano ad operare a fianco di donne che vivono il disagio mentale la sofferenza ed è appunto nell'aiuto reciproco che si innesta così questo sistema di buone pratiche di azioni che vedono persone che stanno bene che finalmente stanno bene che magari hanno avuto loro stesse delle crisi dei momenti di difficoltà ma che li hanno superati e quindi nel momento di benessere aiutano e sono vicine a persone più fragili e nel libro poi le voci sono molteplici sono varie sono diverse e io ho lasciato anche volutamente proprio le frasi idiomatiche le espressioni i modi di dire delle singole donne in maniera che le personalità si nettamente si stagliano si si dividono e c'è questa frantumazione questo ventaglio così di esperienze diverse ci sono alcune storie molto importanti come quella di Mariuccia Giacomini di Eliana Perini che hanno seguito proprio fin dall'inizio la trasformazione del manicomio in un luogo aperto sono state vicine a Basaglia e quindi raccontano la loro esperienza di quello che era prima e di quello che poi anche con il loro lavoro con il loro entusiasmo accogliendo le idee che le hanno formate loro stesse perché loro stesse sono cambiate sono diventate altre attraverso l'esperienza basagliana e quindi proprio diciamo che il frutto di questa trasformazione è qualcosa che ha radici nel nel lontano appunto anni 60 anni 70 ma che si proietta ancora proprio come possibilità di sviluppo futuro agli psichiatri questa questa possibilità di avere come supporto anche le persone stesse questa interscambio di esperienze alla vostra cosa conta avere questi gruppi di autoaiuto come si possono definire che ruolo hanno qui è un po' difficile il discorso io credo che nei gruppi di autoaiuto se li vediamo come sono visti gli psichiatri e le psichiatri non c'entrino cioè io posso entrare in una relazione con una persona di sofferenza che è una relazione di scambio e quindi è difficile da dire io ho sempre molta difficoltà perché penso poi che ci sia come dire una regia occulta degli psichiatri quando sono dentro questi gruppi di autoaiuto che sono molto poco di autoaiuto allora la cosa importante secondo me a dire e questo è che sta affidando un po' l'esperienza è che i gruppi si formavano su interessi particolari cioè per cui come dire io ho partecipato a dei gruppi nei quali io ho imparato delle cose c'è stato realmente uno scambio e non sono i gruppi di autoaiuto come sedute di psicoterapia di gruppo questo vorrei che fosse molto chiaro io ho partecipato a dei gruppi di lettura in cui si sono letti dei libri in particolare c'erano dei gruppi di fotografia ad altre cose non ho partecipato e la questione è sempre la stessa è come dire che cosa fa lo psichiatra o lo psichiatra è colui che è capace di creare delle situazioni dentro le quali che poi credo che sia ciò che Franco Pasaglia ha insegnato che noi non agiamo sulle persone noi creiamo luoghi creiamo situazioni creiamo possibilità dentro le quali le persone possono crescere scambiarsi e diventare riconoscersi se stesse e scambiarsi ecco quindi allora credo che in questo così come nacque Centrodonna nacque da un ritrovarsi insieme poi devo dire che c'è una questione che lega molto le donne è la discriminazione di genere che sei psichiatra sei sei persona con esperienza con si dice Silva sei infermiera qualunque tu cosa sei noi ci siamo unite sull'essere donna non sull'essere psichiatra e donne con esperienza poi questo dal nostro essere donna queste parti si sono incontrate e io ho molto da dire con Silva sul mio essere donna e il suo essere donna poco da dire forse proprio poco da dire su un'esperienza di sofferenza che non ho condiviso come mentre moltissimo condivido poi che dentro questo mio essere donna e il suo essere donna ci siano pezzi della sua sofferenza che si accompagna la mia su altre cose non so se è chiaro è qua che nasce la possibilità reale di uno scambio e di una cura ammesso che sia possibile curare e non come dicevo e di un cambio di prospettiva anche sì è proprio un mettersi cioè come dire un dislocarsi è un mettersi da un'altra parte che poi credo che sia quello che aveva fatto Franco con l'istituzione negata quando decide di mettersi da un'altra parte quando non sta più dietro la scrivania quando si toglie il camice che non è soltanto un fatto come dire estetico o di apparenza ma è un fatto di sostanza io posso dire che oramai sono 40 anni che faccio psichiatra non ho mai messo un camice in vita mia e di questo sono ancora orgogliosa e penso che ci sia la profonda differenza perché appunto abbiamo pochi minuti io vorrei parlare con il professor Mattiusi dello stigma e secondo lui i ragazzi i giovani come lo vedono che cosa rappresenta per loro è sentito è un ostacolo o è cambiato qualcosa cioè come individuano come interagiscono sì l'idea della malattia mentale è vissuta come stigma nella società oggi come è percepita quando voi presentate il libro avete la possibilità di confrontarvi con il mondo giovanile questa esperienza come dire è sedimentata ha avuto un suo percorso per cui le cose sono diverse un'impressione ma io posso riportare quello che vedo nella scuola quello che vedo in qualche modo in questo ambiente normalmente con tutte le differenziazioni insomma di età con tutto quello che si può con tutte le distinzioni che si possono fare i ragazzi sono forse chiaramente insomma più aperti rispetto agli adulti e non hanno in qualche modo quell'istinto di difesa in qualche modo rispetto alla sofferenza secondo me questa è una valutazione mia che l'adulto invece si porta dietro e che quindi spesso preferisce come dire non vedere o voltare le spalle insomma questo è un discorso che riguarda gli adulti per i ragazzi insomma la cosa è un po' diversa e spesso insomma la vera interazione insomma quello che accade per fra di loro insomma e che sono loro a prendersi in qualche modo cura del ragazzo che ha queste sofferenze e sono loro in qualche modo a aiutarne l'inserimento nella scuola molto più di quanto possono fare gli operatori di quanto possono fare gli insegnanti questo è sicuramente insomma il dato che più ho osservato e che più mi ha colpito in scuole in ambienti sociali diversi in ambienti diversi questo in qualche modo posso dire che in qualche modo è una costante che poi anche in questo caso magari denunci dei limiti è un altro discorso però hanno questa straordinaria capacità insomma che è maturata l'esperienza ha dato i suoi frutti questo secondo me sì che poi appunto è chiaro che come torniamo al discorso precedente come tutte queste buone pratiche come tutte queste cose ha bisogno di supporto e come adesso sono impredicato e anche impredicato come diceva Franco Rotelli nulla è certo è definitivo ci si può sempre come dire il rischio di tornare indietro è sempre molto alto mai dare per certa una cosa acquisita brevissimo Silva Bon nel tuo libro tocchi anche il discorso del come riempire il vuoto che ha scavato la malattia anche come dire arredando diversamente una stanza anche con l'arte anche con i colori con gli oggetti che uno ha attorno a sé lo aiutano a ritrovare il suo sé quello che ha dentro di sé tu ne parli nel libro sì le forme di recupero sono molteplici sono diverse da persona a persona evidentemente intendo il recupero la vita recupero gli interessi e appunto proprio su questo su questo nodo che bisogna lavorare cioè nel cercare di coinvolgere le persone a guardarsi attorno e a vedere veramente quello che le circonda ad avere qualcosa per cui vale la pena la mattina alzarsi e mettersi appunto compiuti tutti i rituali del risveglio a lavorare a faticare una giornata e le nostre nell'associazione per esempio che ho rappresentato per anni l'una e l'altra l'associazione di volontariato culturale fra donne l'una e l'altra per esempio anche il portare le persone a vedere una mostra andare al museo capire le varie vene di etnia di religioni diverse che si sviluppano nella città muoversi nella città stessa impadronendosi della storia dei palazzi delle strade cioè abbiamo costruito proprio dei gruppi e ci siamo mosse addirittura a volte anche con dei pulmini per per portare dei gruppi aggregati in luoghi deputati in cui poteva nascere così una scintilla di nuovo interesse di nuovo di nuova voglia di vivere di stare fuori dalla sofferenza fuori solo dal rinchiudersi in se stessi come appunto può accadere quando si sta male ecco tu hai parlato di radici quindi trovare le radici di se stessi trovare sì le radici di se stessi trovare anche dei motivi che portino che portino a fare che portino a fare cose che fanno star bene dallo yoga alla ginastica dolce ai pranzi conviviali insieme alle feste ai momenti in cui siamo andati in teatro cioè ci sono momenti di aggregazione diversissimi nei quali i pranzi le cene appunto a tema per esempio che sono state fatte tra l'altro abbiamo anche una casa un appartamento proprio una sede una sede che è un luogo fisico in cui alcune persone anche sono ospitate sono diciamo così curate nel senso di cura più ampia più globale più comprensiva nel senso del termine dell'accezione più più ampia appunto dalle altre donne e qui imparano per esempio a costruire la propria autonomia o a recuperare la propria autonomia se sono ragazzi giovani molte volte devono costruire anche dei piccoli passi anche minimali anche il fare una lavatrice il cucinare un sugo per dire cioè le autonomie che servono poi a stare in piedi con le proprie gambe che quindi danno anche poi la gioia e la soddisfazione di aver fatto qualcosa per sé e poi un secondo momento si spera anche qualche cosa per le altre ma mi sembra che questo sia un bellissimo finale perché tu hai parlato di cose concrete nel bellissimo filmato della signora noi abbiamo visto Franco Basaglia che invitava a guardare al concreto e con questo penso che possiamo chiudere i puntualissimi e diamo spazio ai colleghi grazie a tutti grazie grazie a tutti